Buonasera amici telespettatori e bentornati alla nostra trasmissione in viaggio con l'esperto e oggi vi parleremo di un paese che si avvicina molto alla meditazione e che a chi ci va lascia qualcosa di magico. Lo scopriremo subito dopo la nostra sigla. Eccoci appunto qui in studio, vi presento subito la colonna portante di questa trasmissione, appunto Marco Floreani, amministratore delegato dell'Agenzia di Viaggi T85. Buonasera Marco. Sì, buonasera a tutti voi e a tutti i telespettatori. E appunto anche in mezzo a noi, al mio fianco, c'è la responsabile gruppi dell'Agenzia T85, Ilaria Cecotti. Buonasera. Buonasera, buonasera a entrambi. Marco, di cosa parleremo oggi? Oggi parleremo di un arcipelago fantastico di isole che adagiate all'inizio dell'Oceano Pacifico, vicino alla Cina, si fanno chiamare Giappone. Per cui parleremo di questo meraviglioso posto, il Giappone, che ha tradizioni e culture completamente diverse dalla nostra cultura europea. È un paese molto affascinante, un paese che stimola molto, per cui eccoci qua con la nostra esperta Ilaria, che è stata in Giappone di recente, ci sono stato anch'io tempo fa con lei, e appunto sviscereremo così un po' quelle che sono le caratteristiche e le bellezze di questo meraviglioso paese. Allora ti incalzo subito, qual è il periodo migliore o quali sono le stagioni migliori appunto per visitare il Giappone? Allora chiaramente in Giappone ci potete andare quando volete, durante tutto l'anno, però per assaporare, per entrare così in questo fantastico e magico mondo, due sono i periodi diciamo più indicati, quello della fioritura dei peschi, per cui la fioritura dei ciliegi, degli alberi da frutta che è all'inizio della primavera, e poi anche verso l'autunno, vero Ilaria, dove possiamo ammirare tutti i bellissimi colori dell'autunno, i rossi, gli sfumati, i bruciati, che danno un magico contorno a questa meravigliosa area geografica. Assolutamente sì, quelle appena nominate sono le due stagioni di punta per il Giappone, quindi il periodo del foliage, diciamo corrispondente con il nostro autunno, ottobre-novembre, e l'altra stagione è proprio quella della Nami, quindi la fioritura dei ciliegi, che va da fine marzo a aprile inoltrato, possiamo dire. Bene, allora parlaci un po' di questo primo periodo, il primo periodo di fioritura, di intensa fioritura e di intenso colore che possiamo trovare in primavera andando a visitare il Giappone. Da dove partiresti per farci visitare questa meravigliosa location? Allora, per il viaggio in Giappone dipende un po' da quanto tempo si ha, diciamo che principalmente, per un viaggio possiamo ipotizzare di circa una settimana, consiglierei di vedere le località principali. Quindi sicuramente Tokyo, dove assolutamente la fioritura dei ciliegi è molto visibile nei parchi cittadini, anche nei giardini del Palazzo Imperiale. Dopo una sosta di due, tre giorni a Tokyo, che secondo me sono sufficienti per scoprire la città in maniera adeguata, sicuramente mi sposterei più a sud, quindi a Kyoto, l'antica capitale del Giappone, dove spenderei altri due, tre giorni. Da Kyoto è possibile fare delle escursioni in giornata, quindi a Nara, che dista circa una quarantina di chilometri da Kyoto, per cui una gita assolutamente fattibile in giornata. Qui possiamo visitare, anche Nara è stata un'antica capitale del Giappone, e qui possiamo visitare il famosissimo Parco dei Cervi, dove il cervo è considerato un animale sacro, e possiamo trovarlo in libertà, si fanno avvicinare molto facilmente, si fanno nutrire. Sempre in giornata da Tokyo, si può fare un'escursione, da Kyoto, perdonatemi, si può fare un'escursione a Osaka, in una quarantina di minuti di treno si raggiunge agevolmente, e qui si può chiudere l'itinerario, ipotizziamo, di una settimana, rientrando direttamente da Osaka con un volo di linea, oppure rientrando anche a Tokyo e da lì tornando verso l'Italia. Bene, allora c'è detto che ci si può spostare appunto tra Tokyo, Kyoto e Osaka, quali sono i mezzi di trasporto che sono più indicati per noi europei per spostarci appunto da un paese all'altro? Sicuramente in Giappone il mezzo più veloce, efficiente per spostarsi è il treno, perché la rete ferroviaria giapponese è efficientissima ed è sviluppatissima, ci sono questi treni superveloci che sono chiamati anche treni proiettile, si chiamano tecnicamente gli Shinkansen e viaggiano a una velocità di 250-300 km orari, arrivano fino ai 320 più o meno. Addirittura recentemente è stato sviluppato un treno a lievitazione magnetica che raggiunge i 600 km orari, quindi gli spostamenti sono veramente rapidi e soprattutto puntualissimi, per cui non ha senso avventurarsi in voli interni o noleggiare un'auto perché il trasporto ferroviario è assolutamente il mezzo migliore per spostarsi. Sì, anche perché credo che se noi dovessimo noleggiare un'auto e spostarsi in Giappone dove si corre a sinistra, poi col nostro trend di gestione molto disordinata nel traffico però verremo fermati sicuramente subito perché i giapponesi sono estremamente precisi, ordinati, puntualissimi, per cui ci si deve proprio immergere in questo loro mondo, in questa loro filosofia di precisione, di puntualità. Ricordo che quando siamo andati in Giappone addirittura il treno si ferma di fronte a te e si apre la porta alla quale tu devi poi accedere che è scritto sul biglietto, cioè sono di una precisione incredibile. Noi non saremo mai capaci di fare una cosa del genere perché nel nostro modo molto fantasioso è veloce nel fare le cose non saremmo capaci di essere così puntuali e precisi. Senti, invece poi il secondo periodo allora, quello della... Il secondo periodo per visitare il Giappone è invece durante il periodo del foliage, quindi corrispondente con il nostro autunno perché ricordiamo che in Giappone e in Italia le stagioni sono assolutamente identiche tendenzialmente. Siamo nel misfero settentrionale, tutti e due per fortuna. Assolutamente, anche il clima è molto simile, per cui in questo secondo periodo una cosa molto bella da fare invece è spostarsi anche verso le Alpi giapponesi dove possiamo godere al pieno di questo spettacolo del foliage, quindi del cambio di colore degli alberi meravigliosi. Certo, siamo riusciti a vedere addirittura il Fuji imbiancato in un viaggio fatto un paio d'anni fa da un lago, dalla prefettura di Shizuoka, il lago Ashi, siamo riusciti a vedere questo meraviglioso cono imbiancato che tutti potete trovare sui cataloghi e sulle cartoline. È un'area molto interessante perché è piena di parchi ed è piena di attività anche industriali, di quella zona lì, perché a fianco comincia la parte industriale del Giappone. Ilaria, scusi signor Florianima, una domanda. Certo. Appunto, tu sei la responsabile dei gruppi di viaggio. So appunto che voi fate anche delle presentazioni qualche mese prima dei viaggi. Sì, prima della partenza dei viaggi normalmente noi facciamo delle serate, alcune sono promozionali, alcune sono più specifiche per chi deve partire, quindi con informazioni di carattere più tecnico per preparare i viaggiatori al viaggio stesso. Io sono stata presente appunto a quella del Giappone e quello che tu mi hai trasmesso è che i giapponesi, il popolo giapponese è un popolo molto corretto, molto educato, molto ospitale. Sì, i giapponesi sono veramente molto ospitali, sempre disponibili, sempre pronti ad aiutarti se ti trovi in difficoltà, pur con la barriera linguistica perché comunque l'inglese non è molto diffuso in Giappone, a parte nelle grandi città come possono essere Tokyo e Kyoto, nelle realtà più piccole a volte è un po' difficile comunicare, ma comunque loro sono sempre molto propensi ad aiutare, ricordo perfettamente che quando abbiamo avuto, io ad esempio ad un certo punto mi trovavo in un paesino abbastanza piccolo e non trovavo un bancomat da dove potessi prelevare del denaro, loro hanno fatto di tutto per aiutarmi, addirittura un passante si è offerto di cambiarmi dall'euro allo yen, sono sempre, diciamo la loro forma mentis è quella del rispetto, dell'educazione, della pulizia, questo perché sono un popolo che storicamente è stato organizzato in caste, quindi anche molto organizzato gerarchicamente, per cui loro portano sempre molto rispetto al proprio superiore, anche se ovviamente lo straniero non è, l'ospite è sacro comunque. Vedevo che la regia appunto ci stava mandando una scheda prima di leggerla velocemente, una parola, una frase per racchiudere il Giappone. Per me il Giappone è magia, nel senso per me è stato il mio sogno da bambina che ho fortunatamente avuto l'occasione di realizzare, è un Oriente diverso da tutto il resto dell'Oriente, è una cultura particolare, assolutamente diversa ed è un paese geloso della propria cultura, delle proprie tradizioni che custodisce con grande orgoglio. Un'ultima cosa Ilaria, parliamo di alimentazione, parliamo di gastronomia, cosa possiamo trovare di interessante in Giappone da questo punto di vista? Allora intanto ci tengo a dire che il Giappone non è solo sushi come molti possono pensare e non è solamente cibo crudo. Sicuramente però come prima cosa da assaggiare in Giappone bisogna assolutamente assaggiare il sushi giapponese perché è totalmente diverso da quello che mangiamo qui, che troviamo qui. Anche perché qui viene un po' riadattato come sapori, hai rivisitato ai gusti locali. perché lì ci sono molte più varietà di pesce, uova di pesce sopra il sushi, anche dei pesci che qui non troviamo e non possiamo reperire, per cui assolutamente da provare. Questo non toglie per i viaggiatori che magari stiano un po' resti a mangiare crudo per paura, perché non piace. Hanno tantissimi cibi cotti, famosa è la tempura ad esempio, sono i cibi, il loro fritto, che è un fritto abbastanza leggero comunque, gli udon, i ramen, sono degli spaghetti in brodo in queste grandi ciotole che si trovano, è anche un po' uno street food, questo si trova anche per strada. E poi è famoso comunque anche il barbecue giapponese e famosissima anche la carne. Benissimo. Tutto bagnato con cosa? Sake. Con del sake. Ok, signor Floriani, vedevamo in regia, dalla regia, che ci stavano dando la scheda. Vediamo se riusciamo a leggerla velocemente. Ecco, come vedete la capitale, Tokyo, gli abitanti, 128 milioni circa, ha una superficie abbastanza piccola, non è un grandissimo agglomerato di isole, la lingua è il giapponese, l'inglese, come diceva prima la nostra collega Ilaria, che è poco diffusa perché ancora non è molto entrata nel loro modo di essere. E la religione, trovate la religione buddista, sintoista e anche la cristiana in piccola percentuale. E allora ringraziamo l'esperta di oggi che ci è venuta a trovare, la responsabile gruppi Ilaria Cecotti dell'Agenzia di Viaggi T85. Signor Floriani, ci siamo avvicinati al mappamondo, perché? Perché volevamo farvi capire che andremo nella prossima puntata in Australia e poi faremo un piccolo salto in mezzo all'oceano per andare a visitare le isole Cook. Eccole qua. Benissimo, allora noi vi ringraziamo e ci rivediamo il prossimo lunedì. Alla prossima puntata, arrivederci. Alla prossima puntata. A presto.